Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Messi Oggi siamo in piscina, scusate, non è in piscina E' un vlog in piscina E' un ringrazio i registratori che sono Gianluca Luciani e Daniele Luciani E' un tuffo e poi i video per tutte le notizie, bella Allora, la prima notizia è che se ne aggiungiamo i 10, almeno i 10 iscritti farò lo speciale Spero spiegare 8 iscritti Ricordo che l'ho già fatto come l'altra volta, però ho fatto il tempo un po' Vabbè, iniziamo con il video Spero che tu hai 8 iscritti, in che cosa consiste? Nel fare della challenge, più contro lui E ci dovremo spiegare, sulle belle sfide E vabbè, partiamo con la prima sfida che sarebbe il tuffo migliore E il giudice che ci sta riprendendo dovrà dire che è stato meglio Eeeh, vai Vai, questo dobbiamo fare che fa il tuffo più bello Vai Io Ehi, devi salire qua Che fa il tuffo più bello Vabbè Ehi, devi salire qua bene ragazzi la prima sfida l'ho vinta io e prendiamo la seconda ok ragazzi faremo la seconda sfida che sarebbe l'ultima che vince ma ha vinto tutto però siamo un ladero per me quindi se vince lui pareggio dai dai dovevo fare la come si dice la chi va più lontano tipo chiamo tu poi vado tipo laggiù ho vinto io se lui insurca e va si una ho vinto io che vado prima io vai vinto io mi stai piacutino vabbè rica io che lui vado fino alla linea rotta e ora toccheranno io Pansata ok ragazzi a ben da mio fratello se il video vi è piaciuto commentate condividetelo iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video Si scriverà, verrà mangiato da un mostro!